Grazie a tutti perché sei bellissima e sicuramente adesso che ve lo dico la riconoscerete senz'altro tutti lei è una ballerina di Made in Sud, Fabiola Ciminella, buonasera Fabiola Grazie a te, buonasera, ringrazio a Pino che mi ha dovuto essere qui stasera per l'evento particolarmente bello, grazie Tu ti stai tenendo ancora in forma e finito il programma se non erro, vi state preparando per l'anno prossimo e in realtà non so quando mi fa